Potete andare a destra, c'è il fondo, c'è il... Da dove? Non lo so, non ne ho idea Ma tu dove sei passato Sam? Chi è con me nel cespuglio? Io sono a destra del bunkerino Ah cazzo, è nel cespuglio a sinistra! No ragazzi, vi faccio vedere il filmato Ma sei morto?